Buon pomeriggio, finito il primo tempo, 2-0 per il Samo. Giovanni, come hai visto questa formazione? Ottimo, una buona difesa e un ottimo attacco. Sarà l'effetto Samo? Ah, forse la primavera, sembra anticiparla in tutti i tempi. Abbiamo qui un simpatico tifoso dell'Ostignano, buon venuto a Samo. Grazie, grazie. Come hai visto questo primo tempo? Beh, purtroppo male per l'Ostignano, però complimenti alla scuola di Samo che sta giocando molto meglio. Speriamo di rifarci nel secondo tempo. Senz'altro, siete onorati perché è la nostra prima partita ufficiale, quindi siamo orgogliosi anche di questo. Ok, grazie, in bocca al lupo per tutto. Anche a voi, forse Stigliano e forse Samo. Ciao.